Mi sono unito. La mia vita è stata una festa dei sensi. Mi sono unito a uomini e donne sconosciuti in luoghi deputati a questi incontri. Ci mischiavamo in coiti collettivi che chiamavamo batterie. Una volta una mia vaga compagna di mezz'ora mi disse, ma tu perché stai qui? Adesso le avrei risposto, perché ho bisogno di saturare il mio corpo fisico per intuire i miei corpi superiori.